PAMELA PRATI È una sugar, attrice e cantante italiano nata a Uzzieri nel 1950. Ed è molto amata dal pubblico per i suoi trascorsi con successo in tv. Nel consueto appuntamento giornaliero con due anni da me su Radio, è stata ospite di Caterina Paligo e ha voluto raccontare alcuni lati inediti della sua vita, che per diversi anni le ha riservato molte sofferenze. Sono andata in collegio a un anno e mezzo con i miei fratelli e le mie sorelle. Mia mamma era stata lasciata da mio padre e non aveva possibilità di mantenerci in quanto eravamo otto. Il collegio era lontano da casa e mamma veniva a trovarci per portarci del cibo calmo. Si apre così la puntata di Vieni da me, con una confessione d'infanzia che nessuno poteva immaginare per parlare. In collegio siamo rimasti per sette anni, visto che mamma dopo è riusciata a riportarci a casa. Durante la mia infanzia ho capito il mio valore di amore e famiglia. Il racconto continua con altri aneddoti importanti e a tratti toccanti, e in studio arrivano le prime latime in ricordo della mamma. Una situazione che colpisce anche Caterina Balivo, visibilmente emozionata per le parole della frase. Le suore non ci facevano vedere già in burrasca ed erano molto severe, erano poche quelle buone. La mia infanzia è stata rubata dal collegio e ho recuperato solo quando sono riuscita a prendermi cura di mia mamma, che per me era tutto. Non solo il collegio e l'amore verso la madre tra gli argomenti trattati da Camela Prato, visto e considerato che ha voluto dichiarare pubblicamente tutta la sua stima e il suo amore per i compagni di vita ma dopo anni di sogni mai realizzati Camela ha una famiglia tutta sua, un sogno che è riuscita a realizzare a 60 anni. Marco è l'amore della mia vita, quell'amore che ho cercato per tutta la vita e che mai l'avevo trovato, presto ci scuseremo in un premio tra America e Francia, per proteggere i nostri bambini dal media italiano. Una dichiarazione d'amore importante per un uomo che l'ha reso felice dopo un'infanzia da in vivo, per la gioia dei tanti 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 da sempre amano Camela Prato.